Possiamo raccontare la storia del Partito Comunista italiano come la storia di tre generazioni. La prima, giovani, uccidono il padre. Il padre è il socialismo, una tradizione nobile che affonda le sue radici nel risorgimento addirittura, quindi il socialismo delle case del popolo, delle leghe cooperative, delle organizzazioni dei braccianti, quello che poi ha costituito la radice storica delle regioni rosse in Italia, il socialismo municipale. Uccidono questo padre per due ragioni. La prima è che non ha saputo opporsi alla guerra, alla prima guerra mondiale e quindi ha fallito in una delle sue missioni principali, la pace, il pacifismo, l'antimilitarismo, questi sono temi identitari forti per quella tradizione. Il secondo, la rivoluzione in Russia. C'è un posto nel mondo dove è stato possibile fare una cosa diversa da quella tradizione gradualista, riformatrice, temporeggiatrice. C'è stata la rivoluzione e a differenza dell'unico precedente storico che abbiamo, la Comune di Parigi, che è durata pochi mesi nel 1870, questa riesce nel ferro e nel fuoco, a prezzo di gravissime violazioni di massa dei diritti umani, però a reggere, a tenere e a sopravvivere. Sono questi due punti, la guerra e la rivoluzione, che animano questa generazione di giovanissimi. Li guida un monaco, non un politico, una persona per cui la fedeltà alla dottrina è più forte di qualsiasi altra considerazione. Si chiama Amadeo Bordiga, è un ingegnere di Napoli e applica alla politica proprio le formule della matematica e quindi fallisce questo partito piccolo, dire a questi ragazzi, fallisce nel suo primo e drammatico banco di prova, l'opposizione al fascismo. Non esiste un episodio in Italia in cui la resistenza armata degli iscritti al Partito Comunista Italiano abbia un qualche valore. Gli unici episodi che abbiamo sono le barricate di Parma, in cui però sono gli arditi del popolo, e cioè un'organizzazione diversa rispetto alla quale Bordiga, che è un settario, quindi riconosce soltanto i propri simili, gli iscritti come lui allo stesso partito e non ama le alleanze con altre formazioni. Quindi un partito molto ideologizzato settario, fallisce nella sua prima prova di scontro con il fascismo, però fa un miracolo. Il miracolo è una generazione, questi ragazzi resistono sotto il fascismo, nell'illegalità, nella clandestinità. Il Partito Comunista, questo giovane appena nato partito, è l'unico che riesce a conservare un'organizzazione clandestina, illegale in molte zone d'Italia, soprattutto in quelle regioni rosse che appartenevano alla tradizione socialista. La gente, il popolo, le persone medie, ordinarie, comuni, si abituano a riconoscere nei pochissimi comunisti degli oppositori onesti, leali, coerenti del fascismo. Li vedono, sono gli unici. E quindi questo partito poi arriva alla seconda generazione, che è quella della resistenza, che è quella della seconda guerra mondiale, le guerre sono una costante nella storia di questo partito, i partigiani sono una nuova generazione. Molti di loro sono stati convinti fascisti fino al 1935, uno per tutti, Pietro Ingrao, che è stato un grande nome, un grande leader, però con i bombardamenti, con la guerra, maturano l'opposizione e vanno nella resistenza. I comunisti che si legano a questo secondo ciclo e che sono appunto i Longo, i Pietro Secchia, rappresentano questa seconda generazione. In questa seconda generazione si afferma un leader che non ha vissuto in Italia e che è stato all'estero e a Musca per gran parte del tempo, che si chiama Palmiro Togliatti. È uno che è stato insieme a Stalin, quindi è complice, quantomeno spettatore passivo, del grande terrore staliniano, delle purghe, delle brutalità e delle violazioni, che dicevo prima, dello stalinismo, del comunismo sovietico, e però arriva in Italia con un'idea nuova, che è il partito, un partito di massa, un partito che arriva ad avere 2 milioni di iscritti. Pensate che dopo il 1945 la socialdemocrazia tedesca, che è considerato il modello di un partito di massa, aveva 600-700 mila iscritti. Il partito comunista italiano ne ha molti di più, molti di più del suo gemello, il partito comunista francese, e lo differenzia dal partito comunista francese anche un'altra cosa, e cioè il fatto che il partito comunista italiano approva la Costituzione, anzi collabora in prima persona nell'assemblea costituente alla stesura della Costituzione. Questa seconda generazione, il partito nuovo di massa voluto da Togliatti, conquista molte amministrazioni locali, arriva a governare in molti comuni e dopo il 1970 anche in molte regioni. Ma quando si istituisce le regioni in Italia è già arrivata la terza generazione. La terza generazione è quella del 68, è la prima generazione a non avere un'educazione fatta nelle scuole di partito ma nei movimenti di massa, nelle assemblee degli studenti, ai licei, alle università. È la generazione per cui il partito non basta più in sé per sé, come ricompensa, come incentivo simbolico. Per la generazione degli Amendola, dei Longo, anche dei Berlinguer, il partito rappresentava tutto. Il Partito Comunista d'Italia nel gennaio del 1921 nasce con una forte impronta che è quella voluta dall'internazionale comunista e quindi sostanzialmente dai bolcevichi russi. Tra le 21 condizioni che erano previste per essere ammessi all'internazionale comunista vi era la divisione, la espulsione dei riformisti dal partito. E proprio il mantenimento dei riformisti di Turati all'interno del Partito Socialista era stato il motivo che aveva portato la maggioranza del Partito Socialista guidata da Serrati a non accedere alla volontà scissionista dei polcevichi russi anche se questa maggioranza era anch'essa desiderosa di entrare nell'internazionale comunista. La scelta di Livorno e quindi da parte di Bordiga soprattutto, ma in subordine anche del gruppo dell'Ordine Nuovo che contribuisce alla creazione del Partito Comunista d'Italia, è una scelta minoritaria, è una scelta settaria, è una scelta che cerca di obbedire a quelle che sono le indicazioni organizzative, ma anche tattiche e strategiche che il Partito Bolcevico dà all'internazionale in quegli anni. Vi saranno dei momenti di frizione tra le posizioni del Partito Italiano e quello russo, soprattutto perché Bordiga è legato a una visione rigida, settaria, antiparlamentare che non tiene conto dell'evoluzione della condizione storica e quindi per esempio della nascita e poi degli imporsi del fascismo che metterà rapidamente in difficoltà la vita del Partito Comunista e di tutti i militanti del Partito Comunista. Ma comunque anche con alti e bassi nel corso della storia la realtà del Partito Comunista Italiano sarà sempre quella di mantenersi legata al Partito Comunista russo, di obbedire sostanzialmente a tutte le svolte e le indicazioni che il Partito Russo darà e questo sarà tanto più significativo quando nell'Unione Sovietica prenderà definitivamente il potere Stalin che darà quindi al comunismo russo e sovietico una impronta sempre più fortemente totalitaria e dittatoriale. Questo aspetto di sottomissione alla visione del comunismo all'Unione Sovietica sarà importante non tanto e non solo nel periodo fra le due guerre. In questo periodo sarà importante perché il Partito Comunista perderà tantissimi suoi dirigenti e militanti che verranno espulsi o che si allontaneranno o che verranno addirittura incarcerati nell'Unione Sovietica dove si erano rifugiati per sfuggire al fascismo, molti dei quali finiranno anche nel Gulag. Ma soprattutto però sarà nel dopoguerra quando il Partito Comunista italiano contribuirà grandemente con la resistenza e poi con la partecipazione all'arco costituzionale che prepara e scrive il testo della Costituzione a creare le basi della democrazia italiana. Perché l'adesione chiara e netta alla democrazia è accompagnata anche sempre da un atteggiamento non solo di sottomissione ma anche di identificazione con l'Unione Sovietica e con il comunismo prima staliniano e poi successivamente di Brezhnev. E questo comporterà naturalmente quella che è stata chiamata la doppiezza del comunismo italiano, cioè la doppia lealtà, una doppia lealtà contraddittoria nei confronti della democrazia e delle sue regole ma anche dell'Unione Sovietica e dei suoi obiettivi, della sua strategia e dei suoi valori.